Entus che si prepara a questa sfida con l'Inter con le parole del suo portiero, ovvero quelle di Scesni che possiamo andare a leggere, le parole di Scesni, mai banale, veramente il portiere polacco, dovrebbero arrivare a breve, intanto vediamo come ci sia un po' di fumogini che copre una visuale del Via del Mare per Lecce e Piorentina. Poi sentivo prima l'inviato a Lecce, stranamente Lecce è sempre ventilato, invece questa sera dice, è completamente, infatti prima vedi che il fumo dei fumogini non esce, non defluisce. Allora, le parole di Scesni, possiamo anche cambiare il titolo, vediamo le parole, eccole qua. L'Inter è molto forte, ma non mi sento di dire che ha qualcosa in più di noi, parte subito forte, Scesni segnano tanto e subiscono poco, stanno facendo bene da tutto l'anno, ma noi andiamo a San Siro sperando di riportare a casa un risultato importante, mancheranno ancora 14-15 partite, non è la partita che decide lo scudetto, di sicuro però darà un segnale forte al campionato se una delle due squadre vincerà, soprattutto nella prima fase, poi parla della Juve in generale, di stagione non abbiamo giocato bene per lunghi tratti, ma non abbiamo subito gol e poi l'abbiamo sbloccata spesso al novantesimo, questa è la nostra grande qualità di quest'anno. Poi la qualità dei singoli, ma anche l'allenatore, Allegri capisce bene la partita, è molto brava da azzeccare i cambi, la sua grande qualità è quella di leggere le partite, quindi fra innanzitutto un po' di orgoglio per Scesni, l'Inter è forte, ma noi non abbiamo nulla di meno di loro. No, ma fa benissimo, lui è il numero uno della squadra, è il portiere, quindi è quello che tra l'altro vede meglio degli altri, le condizioni di gioco, come sta la squadra, come stanno i giocatori, come si muovono, ha detto bene, la Juventus si è svegliata non nei risultati, ma nel modo di giocare soprattutto verso dicembre, ha cambiato marcia completamente dopo la sconfitta con il Sassuolo dove si è fatta tre gol su quattro praticamente da sola e ha cominciato a giocare molto meglio, ha fatto delle partite molto più interessanti sia in Coppa Italia che in campionato, è riuscito a segnare anche più di un gol, ci sono stati dei periodi in cui non si parlava neanche più del famoso cortomuso con cui la Juventus ha fatto molti punti tra settembre e appunto il mese di dicembre e adesso la Juve va a giocarsi questa sfida in modo leggero ma con la consapevolezza di potersi giocare qualcosa di importante che in questo momento, ripeto per me, è sempre basato sulla lotta Champions, mai sullo scudetto, perché quello si potrà capire da marzo in poi, adesso è troppo presto, cioè stare a quattro punti, stare a due, stare a più due, stare a meno uno, a più uno in questo momento cambia poco, anche perché la Juve a meno quattro c'è stata, a meno due c'è stata, a più uno c'è stata, cioè è una questione di attese, ovvio che uscire da San Siro con una brutta sconfitta potrebbe pesare sul morale ma in questi giorni sentendo la Juventus eccetera eccetera, l'ambiente mi sembra sereno, i ragazzi sono molto carichi e consapevoli del fatto che l'Inter sia una grande squadra e che giocherà una partita sicuramente per primeggiare e per mantenere la testa della classifica, anche perché qualora la perdesse potrebbe recuperare poi i punti con l'Atalanta, che non è facile perché l'Atalanta non è una squadretta, certo. Detto ciò a me sarebbe piaciuto giocare questa partita con tutti gli effettivi in campo giusti, ovvero con Ceranoglu e Sommer qualificati. Stiamo dicendo che che male. Adesso ci torniamo. Secondo voi paradossalmente può aver fatto bene il pareggio della Juve con l'Empoli, cioè li ha rimessi un po' sulla corda qualora non fossero stati del tutto... Secondo me gli ha fatto male perché gli ha tolto due punti che erano importantissimi però per come si era messa chiaramente la partita sono quelle partite che partono col piede sbagliato e porti a casa un punto e va bene insomma. Certo è una partita che sarebbe stata comunque da tripla ugualmente. Non lo so, io credo che la Juventus in questo momento stia vivendo una specie di sogno perché obiettivamente nessuno di quelli dalla partita dall'allenatore all'ultimo dei dirigenti avrebbe pensato oggi di essere lì a giocarsi lo squadrato con l'Inter perché obiettivamente è la squadra a rivelazione del campionato che poi debba dirsi che la Juventus è la squadra a rivelazione sembra quasi un iperbole che non... Però di fatto nell'ordine delle cose tu pensa che era strafavorito il Napoli si pensava al Napoli campioni d'Italia, si è vero aveva perso il difensore, va bene ma un difensore non ti sposta gli equilibri invece guarda che il campionato fa... Ha spostato l'equilibrio all'allenatore l'allenatore ha spostato gli equilibri. Sì sì certo e anche il direttore sportivo, tutta la società è stato compromesso tutto il meccanismo. La Lazio stessa guarda che campione a taccio il Milan che era considerato un'alternativa valida perché ha fatto tutti questi acquisti che comunque sono giocatori importanti e quindi insomma invece la Juventus zitta zitta che si è messi i suoi cerotti, ha fatto partire i suoi giovani un allenatore che era considerato già via... Hai detto bene, bravo, si è messi i suoi cerotti questo è importante. È stato bravissimo e vedremo come va a finire perché a questo punto ci credono sono loro gli avversari per questo scudetto o lo vince l'Inter o sennò è la Juventus che può solamente primeggiare. Chi ha più da perdere domani? Beh sicuramente l'Inter. L'Inter ha più da perdere? Sì sì sicuramente. Ha più pressione addosso? La Juve ha due risultati utili, la vittoria e il pareggio. Mentre il pareggio all'Inter secondo me è un po' riduttivo. Cosa fa? Crea problemi all'Inter? Cioè l'Inter che è davanti è riduttivo il pareggio? Eh sì perché loro vogliono prendere distanza, giocano in casa, hanno l'occasione di poterla staccare di tre punti l'Inter e poi hanno un recupero ancora. Quindi sai, secondo me è così. Io la vedo così. Secondo me, secondo me, se tu vieni fuori con le ossa rotte allora sì che può esserci dei problemi sia da una parte che dall'altra. Tu vedi che pareggio? Non considerare che perdano perché se perdono è chiaro. Sì ma rimane lì con una partita in meno che non sai cosa succederà. Ma di rimanere attaccata. Io però, io non sono tanto accordo su queste cose perché comunque chi perde non ha più da perdere l'Inter, la Juve. Lì sono due squadre che sono lì vicine da una vita dall'inizio del campionato. Sono vicine ma se fai tre punti e lasci dietro la Juve. Poi un altro di recupero e fai sei punti. Gianni però io ho appena letto le dichiarazioni dei giocatori. Giusto? L'abbiamo letto? Ok. Abbiamo sentito anche l'intervista. Comunque vale per tutte e due se perde non c'è niente da fare. Allora detto questo, io invece vorrei dire una cosa sul discorso del campionato della Juve. A me non mi ha stupito. Adesso ti dico quello che ti sto dicendo e tu mi dirai se non l'hai già sentito l'anno scorso. Vai. La Juventus l'anno scorso, che nessuno fa caso o forse fan finta, l'anno scorso ha avuto delle problematiche che tutti sappiamo. Certo. Io ho sempre detto quest'anno all'inizio, non sapevo che campionato potesse fare la Juve quest'anno, come potevo sapere, non lo sapevo. Però come partita mi è venuto l'input di dire, ragazzi secondo me c'è qualcosa dell'anno scorso caratterialmente e mentalmente. Perché io non voglio toccare i nomi che la Juve ha perso l'anno scorso, non voglio toccare i punti dati presi, i ridati presi. Poi alla fine comunque sarebbe arrivata di nuovo in Champions nonostante tutte le problematiche. Detto questo, e io forse Francesco c'era all'inizio dell'anno quando ho cominciato la Juventus a gareggiare con l'Inter e star lì. Una volta davanti, una volta dietro tre, due. Secondo me questa esperienza dell'anno scorso ha migliorato tutti, compreso l'allenatore. La società è l'allenatore perché ha fatto capire, perché noi vediamo la Juventus che nel passato era la squadra da battere sempre. Allora detto questo, lei sta facendo un campionato nonostante abbia avuto delle difficoltà anche quest'anno, ma perché sta facendo un campionato a questo livello? Perché con l'Inter e l'Atalanta ha cominciato da poco, è la squadra più continua. Comunque cortomuso, non cortomuso. Io se faccio, scusa ho finito Gianni, se io faccio un punto rosicato che gioco male, ma che serve? Sono tre punti. Scusa se faccio un gol e vinco 1-0. Poi difatti noi se andiamo a vedere Allegri è sempre stato attaccato sul discorso di come giocava la Juve. Però alla fine tutti dicevano, ma che squadra, e tre punti, e che squadra, tre punti. Quindi, detto questo, io credo che la Juventus è lì per l'esperienza dell'anno scorso che ha dato tanto a tutti e per il modo di impostare le partite. E secondo me c'è anche dei giocatori dal livello. Un secondo ragazzi, vuoi sentire anche Tom? Sì, no, no. Sono in parte d'accordo con Giacomo, anche perché io l'anno scorso... Gli occhiali rosso-neri, Tom. Rosso-neri, sì, ti piacciono? Tu nera-azzurro. Nera-azzurro. Eh vabbè, questi... Non è un rosso. L'opulista mi ha dato questo, è un rosso porpora. No, notavo, notavo. Prego, prego. È un rosso sentimento. Vada pure avanti, prego, prego. Perché io... Ti stai dando pure un tono con l'occhiale in mano. Vai, vai. Sono stato il primo a dire che secondo me la Juve, nonostante tutto, non faceva questo bel gioco, portava a casa dei buoni risultati. Però nonostante tutto tutti i tifosi anche della Juve si lamentavano perché il gioco non c'era. C'erano gli allegri out e tutto quanto. Nonostante tutto io dicevo che questa squadra, avendo fatto solo un innesto, perché ha preso solo Weah alla fine e Cambiaso arriva dal prestito, quindi è un giocatore che avevi già in casa, è stato bravo a valorizzare i giocatori... Ma non da quest'anno. No, quest'anno sto parlando. Sì, ma è già dall'anno scorso. Ma quando dicevano il quarto, la Juve deve arrivare quarta perché c'è Inter, Milan e Napoli, no. Io qua l'ho detto e l'ho dichiarato che la Juve quest'anno si gioca il campionato con l'Inter. Allora, c'era il partito di chi diceva, la Juve non ha le coppie, quindi attenzione. Esatto. Sì, sì, la Juve non avendo le coppie, Giacobbo. Final, final, final. Non avendo le coppie, questa Juventus qua, come messa, perché i giocatori li ha, è vero che secondo me è inferiore come Rosa all'Inter, è inferiore, non diciamo stupidate, se no andiamo a dire stupidate, però con questa squadra qui può ambire a lottare fino alla fine, perché prima è una partita in meno e secondo me ora sta incominciando a trovare anche i gol di Vlaovic che sono molto importanti e un po' di gioco più spumeggiante, secondo me. Ma fa punti, fa punti. Ma ho capito, fa punti, però voglio dire, ha pareggiato con l'Empoli 1-1 in casa. Noi quando guardiamo la classifica andiamo a vedere il gioco spumeggiante o la classifica? No, ma ti sto dicendo, però incomincia a fare i gol Vlaovic, Vlaovic ha 12 gol adesso, incomincia a mettersi in potenza, arriva io Gianni. No, sulla Rosa siamo, nel senso che io continuo a pensarla così sui cambi soprattutto, c'è l'Inter ha dei ricambi che la Juventus non ha, la Juventus è al posto di Rabiot, in questa giornata ha fatto giocare Miretti, che non è all'altezza di Rabiot, l'Inter toglie Mkhitaryan che è determinante, c'ha Fratesi che è un giovane interessantissimo, forse quello con la media realizzativa e voti più alta d'Europa quando subentra, sugli esterni ha dei cambi che la Juventus non ha mai perché tu togli Cambiaso, a destra è un UEA che si sta ancora adattando da esterno che non è un esterno, a sinistra è un Kostic che non è all'altezza sicuramente né di Di Marco, né della stagione scorsa e neanche di Carlos Augusto, hai Alexandro, la Juve ancora che è un problema, hai ancora i Desciglio, hai ancora fuori i Pogba e i Fagioli tutta la stagione, hai Chiesa che ancora continua a non star bene, tu stai giocando con un ragazzino di 18 anni e un Vlaovic che si è risvegliato da tre settimane. E sei lì. E sei lì, il concetto è proprio quello, qualora la Juve dovesse uscire con le ossa rotte da Sassino... Traversa clamorosa del Lecce, e poi Terracciano grande parata su Almquist, ragazzi Lecce ha un passo dal vantaggio con un attraverso... Che c'è il più sling qua, attenzione a Lecce! Tra poco vi diciamo anche di chi, eh? Voglio collegarmi a quello... Scusami, finisco il concetto, se esci da meno quattro da San Siro, rimane esattamente lo stesso pensiero che ho prima, cioè che la Juve si giocherà eventualmente qualcos'altro a marzo in poi, che è in un'ottima posizione per andare in Champions League, uno prossimo davanti al posto dell'anno prima, perché da terza arriverebbe seconda, quindi sarebbe un miglioramento ulteriore rispetto all'anno prima, dove era addirittura quarta, e quindi fai qualcosa che ti permette di giocartela fino alla fine della stagione se rimani lì. Ma è oggettivo che, ragazzi, i ricambi dell'Inter sono tutti... Cioè, guardate solo i ricambi difensivi. Se tu togli Gatti, Bremer, Danilo e la Juve, c'è Rugani? Vabbè, che non ha fatto male. Finito. Non ha fatto male quest'anno Rugani. No, Rugani, benissimo, ma finito. Cioè, non hai i pavardi, i acerbi, cioè, non hai quei giocatori. Ma sulla rosa non puoi neanche paragonarla. No, no, ma non c'è paragonarla. Però, dove può essere attenta lì la Juve? Quando l'Inter incomincia a giocare il 20 di febbraio la Champions. Allora lì puoi cercare di... Capello, l'altro giorno, ha detto, scusami, questo Milan con questa rosa non può essere dietro la Juventus. E non c'entra affatto che giochi in Europa, perché io preferivo giocare anche in Europa. Dopo, tra l'altro, ascoltiamo Pioli, che replica Capello. Non è solo l'Inter che è superiore, anche il Napoli. Togliamo Kim, che è stata una perda disastrosa, ma l'anno scorso Kim, quando l'hanno preso, chi è che pensava che fosse così forse? Secondo me il Napoli ha perso la persona importante, che era quello che gestiva lo spogliatore. Traversa il Cabà su cross di Gallo, lei c'è un passo dal gol. Ci scrivono Gianni da casa, Andrea da Ivrea, che il problema non sono tanto i punti che la Juve farà o non farà con l'Inter, ma sono quelli che ha perso con squadre di bassa classifica. Non dirlo a noi, i punti persi buttati via veramente con risultati acquisiti. Però voglio dire, è fondamentale, per quello io dico l'importante, che non perda la Juventus, ma che rimanga attaccata a quel treno lì, perché giustamente adesso arriva il periodo che conta, dove si decide tutto, perché arriva la Champions League. E una squadra come l'Inter, che lo scorso anno è arrivata addirittura in finale, non si può permettere di non prenderla in considerazione in modo serio la Champions. È chiaro che loro hanno messo al primo obiettivo vincere la seconda stella. Perché io sono convinto che se dovessero sapere fare una scelta in questo momento, forse l'Inter si orienta più sul campionato che rispetto alla Champions, dove sa che ha meno armi. L'abbiamo visto con Liverpool l'Inter, le due partite con il Liverpool. Che poi il Milan è arrivato e in sette partite ha fatto sette punti l'Inter. Guarda, io non voglio dire, ma... Tra l'altro c'era un'analogia mostruosa prima di quel derby. Il Milan stava a meno quattro prima di quella partita. L'Inter dovrà recuperare una partita. Sì, col Bologna. Perde 1-0, poi rimonta 2-1, va a meno uno da meno sette, che era nel pomeriggio durante la partita stessa. Poi vince le partite e vince lo Scudetto. Ovvio che l'Inter è più pronta, secondo me, a questo tipo di eventualità quest'anno, perché è già due anni che ci casca dentro. Il primo, soprattutto, secondo me, perché il Napoli era ingiocabile. Però è una roba che... Però scusami, chi è rimasto lì non l'ha metabolizzata? Chi è che ha scritto i punti persi con le piccole? Andrea D'Aivrea. Sassuolo e Bologna li hanno fatti perdere a tutte e due le squadre. E poi voglio sapere da voi chi fareste partire prima, no? Perché uno, Ildiz è in grande forma, un pochino bacchettato dal Lega, probabilmente ha alzato un po' la crescia nel ultimo periodo, penso io. L'altro, invece, Chiesa ha sempre un po' dei problemi fisici, però è da martedì che è rientrato regolarmente in gruppo. La prima domanda qual è? Secondo te chi gioca e poi chi faresti giocare tu, se fossi allegri. Chi gioca, sicuramente Vlaovic, bisogna capire... Non ci sarà, purtroppo, quello che in tanti vorremmo vedere. Il tridente. Il tridente. Il tridente con 2-3. E sarebbe anche, secondo me, un mezzo suicidio andarlo a fare contro l'Inter. Perché poi bisogna calcolare bene con chi vai a giocare. Puoi provarlo magari in altre situazioni, non lì. Chiesa sta bene, si è allenato con la squadra in settimana, non ha avuto problemi. Bisogna capire quanta gamba ha rispetto al diciottenne che non salta una partita da mai. Eh, ma poi lo fai imparare. Chiesa è da tre giornate e mezzo che fuori. Eh. Quindi, secondo me, Chiesa non partirà titolare. Ok, quindi secondo te parte il Dizio. Però non ho notizie in questo senso della Juve. Ok, ok, è una sensazione. Sto dicendo quello che è la situazione mia. E tu chi faresti partire? In questo momento chi sta meglio. Quindi il Dizio, in teoria. Io farei partire invece Chiesa che per esperienze e per tutto poi se fa un'ora, se fa un tempo e qualcosa va bene. Poi entra il ragazzino che ha stimoli perché arriva dalla panchina, è veloce, non è conosciuto ancora, non gli hanno preso ancora le misure e poi Chiesa è l'esperienza che fa. Sai cosa Gianni? Io stravedo per Chiesa. Sarà forse una mia... Anch'io. Però ti faccio un... Visto che Tiziano è amante di numeri non c'è stasera. Ciao Tiziano. Con il Dizio a suo fianco Vlaovic ha segnato sei gol nelle ultime quattro. Con Chiesa a suo fianco nelle ultime sei aveva fatto una rete. È un caso probabilmente, non lo so. Francesco, sarà l'effetto sorpresa nel secondo tempo mentre il Dizio... Il problema è che secondo me invece potresti se non sta benissimo potresti giocarti la carta di quello che strappa dopo. Se sta bene. Perché bisogna capire come sta. Perché il problema non è tanto solo come sta ma come si sente lui col ginocchio perché ha paura Federico. E quindi se ha paura non va. Se devi rischiare è meglio che lo fai dall'inizio. Così se si fa male se dovesse avere dei problemi... Non è già Milik perché ho sporificato. Ho capito. Però se tu fai giocare Illis primo tempo poi metti caso che metti dentro Chiesa e al primo strappo si fa male poi che fai? Non puoi rischiare una cosa del genere Allegri. È normale. Secondo me vedrai che giocherà Chiesa perché è recuperato e poi in partita secondo me tra i ragazzi. Sono convinto di questo. Tutti e due a me va benissimo ci manca il bravo. No no certo però è una questione però siccome Allegri ci ha fatto capire più e più volte che o gioca uno o gioca l'altro è interessante chiedersi oggi chi dovrebbe giocare? Cioè chi metteresti tu Giacomo? Posso telefonare Allegri? Ok. No beh io credo parlando seriamente credo che chi meglio veramente di Allegri che Chiesa arriva da un problema no? Perciò lui lo vede da una settimana oggi sentivo come tutti voi credo abbiamo sentito i test sono stati spettacolari quelli di Chiesa e tutto quanto però io credo che poi alla fine l'allenatore ce l'ha sott'occhio tutta la settimana allora deciderà anche in base a chi giocherà da quel lato lì parlo di Allegri perché non so per dirti dipende chi gioca se gioca a Dunfri se gioca a Darmian per esempio Darmian dal mio punto di vista gioca a titolare sicuro perché anche se non è per Darmian a Cemi per Inzaghi gli dà più garanzie in fase di non possesso però tornando al discorso dei due io stravedo per Chiesa anche se il ragazzino è bravissimo per carità poi i numeri che hanno detto adesso parlano chiaro però io ti dico se sta bene Chiesa io credo che lui è un giocatore come Vlauvi ci ho sempre detto che lui è Vlauvi se sta bene fa la differenza perciò io vado su Chiesa invito gli amici a casa a scrivere su questa cosa secondo me il giocatore più forte italiano è Chiesa in assoluto non c'è un giocatore forte se è in condizioni fisiche se è in condizioni fisiche di stare ma fra Chiesa e Barella mi prendo tutta la vita Chiesa io tutta la vita ma quello là è un centrocampista uno in inferno uno centrocampista i giocatori che potrebbero giocare oggi le grandi squadre europee come questi due qua oggi come oggi vi faccio notare una cosa le dichiarazioni di Allegri quando diceva che il ragazzo non se la sentiva di giocare quindi non lo convocava se adesso domani è convocato vuol dire che il ragazzo può giocare e quindi basta quindi domenica partirà lui vedrete la portata in panchina con questa situazione sì però è lui che dice mister non me la sei lui l'ha sempre detto il ragazzo mi dice che a male al ginocchio non vuole giocare quando è così non lo convoca proprio appunto quindi se è in campo secondo me partirà con lui il ragazzo è che tra Allegri e Chiesa ci sarà un contatto certo punto non giornaliero settimanale sì sì allora se lui parla con Chiesa e Chiesa gli dà garanzie perché poi l'ultimo medico è il giocatore certo esatto c'è niente da fare però l'allenatore deve avere delle garanzie del giocatore perciò lui parlerà chiaramente perché Allegri sa come noi che Chiesa è determinante come il ragazzino però sa garanzie fisiche non tecniche perché tecniche lo sappiamo qual è la sua qualità però Giacomo ti faccio una domanda tu allenatore ho disposizione al 100% ok tu allenatore ti faccio una domanda lo recuperi quello che vuoi fai giocare Chiesa o fai partire l'altro ragazzino no io Chiesa ecco parti con Chiesa il Turco il Turco è più in palla oggi ho capito anche perché oggi il Turco ha 5 presenze 4 gol in sera ha 18 anni in cervello si mette fuori uno che ha fatto un espluato va bene Franci ha più il campo sulle gang cambia mette Chiesa l'Inter sta vincendo 1-0 la Juve vuole ribaltare mette dentro Chiesa il primo strappo si fa male cosa facciamo si fa male Vlaovic no sto dicendo io sto parlando di un ragazzo che arriva da un'epoca su per un chiesa arriva in un gatto non è un problema scolare è un problema contusivo al ginocchio opposto a quell'operato è un'altra cosa non lo so e se poi ti mette Chiesa e il Dizio ti lascia Vlaovic in panchina può darsi può darsi entra dopo perché non è una roba da fare ma dopo esce vuoi tenere un uomo fresco per tenere non so fare a Vlaovic il mini che per difendere un eventuale risultato credo che no io non penso di Vlaovic questa è una provocazione ovviamente però ti dico dal Lega mi potrei aspettare però noi adesso possiamo parlare fino a domenica sera fino a che non darà le formazioni però lì solo l'allenatore chiaramente avrà l'allenatore a tempo ancora fino a domenica sera esatto però io voglio capire cioè voi avreste messo un po' tutti Chiesa io Chiesa scherzi ma Chiesa no io in questo momento c'è anche chi magari vorrebbe sfruttare il buon momento in questo momento no io no tra i due dato che uno sta fuori tre settimane e mezzo ma scusatemi e l'altro no è ovvio che fai giocare l'unico punto di domanda è che Allegri ha fatto capire che la panchina con l'Empoli intanto perché Milik è un giocatore di livello europeo quindi non è che con l'Empoli non posso giocare Milik e su questo ha ragione l'altra cosa è che si è percepito che da Torino qualcuno si era accorto che il ragazzo aveva già volato un po' alto Allegri non gli basta una volta sola allora perché con l'Empoli lo mette in panchina appunto per questo è quello che stavo dicendo se ho un dubbio in questo senso è questo è solo questo perché ad oggi lui farebbe giocare quello che lui considera il miglior giocatore della Juve Allegri considera il Diz migliore di Bremer di Rabiot e di Chiesa ad oggi lo dice da un mese quindi o è pazzo o sta vedendo robe che in allenamento non vediamo noi qualcosa abbiamo intravisto tecnicamente parla il miglior giocatore e adesso non mi ricordo che in settimana se Totti o chi ha fatto una dichiarazione dicendo che sul primo controllo è il giocatore più forte della Serie A sul primo controllo poi come qua stiamo dicendo una roba esagerata di un ragazzo di ciotto anni che sta facendo benissimo ha fatto due sterzate ragazzi da manicomio è vero però a Frosinone capito ma questo ce l'ha ai colpi ragazzi questo ha ai colpi certo è uno così sì ma questo qui ha fatto due gol identici uno con la Serenitana e uno col Frosinone attenzione Lecce il tiro di Bandà deviato in calcio d'angolo Lecce ancora pericolosissima sulla difesa della Fiorentina sulla fascia di Faraoni e Martini Squarta che fa il centrale di destra e Lecce ha fatto quello che vuole comunque è una Fiorentina imbarazzante ragazzi secondo me c'è un altro punto di vista importante Rugani o Gatti ma Rugani questo lo sta castigando è perché ragazzi Rugani non ne sta sbagliando una Gatti sta andando bene Danilo si trova meglio come terzino destro come terzino destro e come sinistro si gira meglio si trova meglio come posizione e Rugani non avendo sbagliato niente è uno di quelli che è un po' meno sporco di Gatti sicuramente però dà un po' più di certezze certo e quindi insomma quello è un altro tema perché comunque l'autor ragazzi davanti hai quello che in questo momento qualsiasi roba tocchi anche se lo telefonino qua lo butta in po' attenzione Lecce un basso dal 2 a 1 il colpo di testa di Blen la parata di Terracciano e là un centimetro c'era Christovic in posizione buh siamo al limite poteva colpire di testa a porta vuota palla che l'ha superato più niente Lecce ancora una volta un basso dal 2 a 0 grande Lecce veramente un bel Lecce ha avuto 6-7 palle gol limpide sta giocando molto bene infatti hai detto la Fiorentina ripeto ragazzi scusate sta venendo la partita non è la squadra che sta in piedi però con l'Inter ha perso con Napoli 3 a 0 in Supercoppa 3 a 0 con Napoli da adesso ha perso con l'Inter sta perdendo male con Lecce che partita ha fatto con l'Inter non quella che sta facendo stasera chi? dico la Fiorentina sta facendo la partita che ha fatto stasera campionato? con l'Inter ha fatto un po' d'ora ha giocato insomma fine primo tempo non parlo di episodio vantaggio meritatissimo mi chiamati dentro quel rigore lì poi vediamo no capito però quella è una partita che prepari già da solo secondo me il dato di fatto è che perdi male con Napoli che il Napoli non sta bene e stai perdendo con Lecce ma ragazzi la Fiorentina non c'ha uno che fa correre esatto tra l'altro a parte il gioco però non ha uno che la butta dentro arriva il tuo figlio e proprio non ce l'ha speriamo che ma il Lecce di questo periodo che Lecce è? buono? no no ma Lecce però è una squadra aggressiva è una squadra che corre è una squadra fisica in casa in casa può essere pericolosa ma la Fiorentina che squadra è? dopo tre anni che progetto è quello di italiano? io questo non capisco qualcuno me lo dica perché io ho sentito dire per due anni che italiano è la migliore di italiano allora non parlare con me perché io non l'ho mai detto no no è anche vero che se guardiamo la squadra non è che ci sono Garrincia Casemiro assolutamente no uno dei migliori è ancora Buonaventura però il Bologna mi sembra che abbia una rosa similare alla Fiorentina il Bologna sta facendo delle cose migliori gioca meglio la Fiorentina arriva da un'annata dove l'anno scorso sembrava aver trovato la sua realtà fa la finale di Coppa Italia meritata la perde per gli erodifensivi di cui abbiamo parlato prima fa una finale di conferenza di che perde per gli stessi errori cioè fa dei disastri difensivi di la Fiorentina che non hanno senso e lascia in panchina sempre Milenkovic io questa non la capisco e quello sarà un problema secondo me c'è un problema per forza io lo comprerei Milenkovic oggi se fossi un dirigente sta scherzando soprattutto anche il Milano potrebbe andare su diciamo che rispetto agli anni scorsi il ragazzo un po' ha perso in termini di prestazioni si però a giocare Ranieri con tutto rispetto per Ranieri io sono convinto una cosa uno che ha qualità non le può perdere le perdi solo però un po' di sicurezza no le perdi solo nel momento in cui hai degli scontri magari con il tuo allenatore con la società non so adesso io non lo so magari lui ha avuto richieste non è stato accontentato e lui ha rinnovato il contratto l'anno scorso se non sbaglio l'ha rinnovato perché? perché l'ha rinnovato? perché altrimenti andava via parametro zero giusto? allora rinnovando il contratto magari io non lo so magari parlo per ipotesi si è messo d'accordo che se c'era qualcuno qualche squadra che lui interessava potevano venderlo non è stato venduto perché non posso pensare che uno che è bravo all'improvviso non gioca più tutta l'area in questa Fiorentina con tutto il rispetto dei difesori da Fiorentina formazione probabile della Juve contro l'Inter la vediamo 3-5-2 quindi saranno atteggiamenti speculari partiamo però a specchio dai bianconeri a specchio con delle certezze Cesni in porta Bremere e Danilo in difesa sicuramente come diceva Francesco Gatti Rugani può essere un ballottaggio dell'ultima ora vediamo se ce l'abbiamo una formazione della Juve Cambiaso a presidire la fascia destra tra l'altro oggi si è parlato anche del Real Madrid interessato a Cambiaso a sinistra non ce l'abbiamo un segno dalla regia please niente mi abbandonate sta per arrivare eccoci qua grazie mille Cambiaso a destra Costice a sinistra Meccani Locatelli Rabiola la linea di centrocampo noi diamo un 51% al Diz 51-49 ballottaggio non è aperto di più tra lui e Chiesa con Vlaovic quindi Gatti o Rugani voi chi scegliereste? Allora Chiesa ha vinto su il Diz a livello numerico qua in studio siamo 3 contro 1 Gatti la prestanza fisica di Gatti l'iluenza di Gatti la camion che sa anche far gol no io Rugani 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 perché quando è entrato ha dato il suo contributo ok gli allenatori qua a diretta studio hanno decretato Chiesa e Rugani Danilo gioca meglio come terzino destra Danilo meglio come terzino destra quindi è meglio mettere tutte le pedine in posizione sicuramente migliore ecco poi dopo senti le voci di Real Madrid su Cambiaso eh pagando si può parlare di tutto comunque è la vera sorpresa di questa eh ragazzi però il problema è che gli esterni gli esterni che giocano con due piedi giocava a sinistra adesso a destra gli esterni che giocano con due piedi che fanno anche le mezzale sono rarissimi infatti se uno se uno interessa per Cambiaso siccome oggi Cambiaso deve valere anche per Chinè famoso procuratore che indagò le plus valenze la Juventus adesso bisognerebbe capire che plus valenze ha guardato su Draghi è Cambiaso non lo so 2000 e adesso te lo guardo ma 2000 e più mi verrebbe mi verrebbe da dire che ha 22 23 24 anni è del 2000 c'ha 23 anni il 20 febbraio fa 24 anni io pensavo di più pensavo 26 25 a febbraio fa 24 anni tra 18 giorni vedi il discorso vedi il discorso che faceva prima Gianni la maglia che pesa cioè Cambiaso arriva da dove cioè con tutto rispetto non la sente neanche lui è la squadra più piccola allora se sei veramente un professionista hai la testa personalità giusta 10 minuti ma giochi giochi da tutte le parti personalità io se vado in una squadra non io tutti noi diamo una squadra che ha i giocatori in campo più forti di quella che abbiamo giocato l'anno prima giochiamo meglio anche noi vero ma ragazzi ma non è sono d'accordo con te è un giocatore secondo me che non ha in questo momento non ha un doppione ma non solo nella Juve in generale perché fa la mezzala fa l'esterno destro fa l'esterno sinistro può fare anche il trequartista si inserisce è uno che va di testa ha un'ottima visione di gioco ed è tranquillissimo come dici tu ha una testa quasi da giocatore fatta e finita ecco perché mi sembrava uno di 25-26 anni perché da come si comporta in campo come si muove parlo sotto l'aspetto della marcatura in fase di possesso in fase di non possesso cioè sembra uno più vecchio calcisticamente parlando di quello che è maturo adesso non lo togli dal campo neanche a morire cioè Wea non farà mai il titolare al posto suo Wea fa fatica a entrare al suo posto questo momento non puoi allora ci fermiamo al rientro prendiamo la macchina nel tempo torniamo dietro ai 26 anni andiamo al 1998 pensavo al caffè la macchina al caffè se vogliamo anche andiamo al 1998 andiamo nel 1998 andiamo nel 1998 che giovane Gialli eri giovane anche te ragazzi 98 eravamo giovani io e te stendiamo un velo più in tollo anche lì una Juventus Inter proprio vissuta in grande leggerezza niente era lo stadio quel giorno delle altre direi Milenkovic attenzione ancora Lecce però rimaniamo in cronaca banda in area di rigore c'era fuori gioco c'era fuori gioco quindi non viene fischiato il fallo eventualmente il fallo ancora una volta non viene fischiato il fallo a Faraoni che occasione per l'Inter ragazzi perché vincendo l'Inter andrebbe a più 4 sulla Juventus con la possibilità poi di battere l'Atalanta in una partita che manca quindi andare potenzialmente a più 7 io credo che questa sia una grande occasione per l'Inter più che per la Juve perché l'Inter vincendo potrebbe ne abbiamo messo tra virgolette ammazzare il campionato solo vincendo ha una grande chance però ragazzi secondo me ha più da perderci se è un risultato la Juve per me ha due risultati positivi io non lo so chi ha più da perdere secondo me l'Inter ha tanto da guadagnare chi dichiara come obiettivo lo scudetto a inizio stagione è più da perdere se vince mette un'ipoteca sullo scudetto se vince ma però deve vincere non sono d'accordo trovo presto ragazzi io credo c'è l'Atalanta ma non solo c'è l'Atalanta ma è febbraio eh lo so ragazzi se l'Inter dovrebbe andare in fondo alla Champions l'anno scorso perché lo può fare a che punto si può perdere ha solo un avversario che siete voi ma non c'entra chi l'ha detto questo non c'entra non è vero non c'entra ricordiamoci chi è che ritorna il Milan ragazzi abbiamo fatto 7 punti in 7 partite ricordiamoci questo l'esperienza insegna ragazzi non bisogna mollare una virgola tu puoi vincere anche con la Juve l'esperienza insegna ma l'Inter è forte è vero anche con il Milan era forte ha vinto il Milan Gianni Ancelotti la Juve ha perso due scudetti a 5 giorni dalla fine a più 9 da Lazio a Roma due anni di fila non bisogna mollare niente il concetto è un conto se fossimo a maggio stiamo giocando questa partita a tre giornate dalla fine allora gli dici l'Inter è oggettivamente più forte lì vai fine ma la Juve ripeto a meno 4 volte quest'anno poi andrà a meno 2 poi torna a meno 4 poi torna a meno 2 poi rimane a meno 2 poi andrà a più 1 poi torna a meno 2 cioè non è una roba se vince anche con l'Atalanta e nel frattempo da quello scontro a Inter-Atalanta la Juve perde altri punti e quel punto è finita ma ce n'è di mezzo allora la differenza è che l'Inter qualche passo falso lo può fare la Juve no e questo è sempre il discorso io credo che questo risultato se vince uno Gianni Gianni secondo me non è che ci perde più questo più l'altro se chi vince mentalmente ti dà quello sprint in più ti dà quella adrenalina ma non conta per il risultato finale secondo me Jack ti faccio un esempio vincesse la Juve e l'Inter poi vincesse la Juve sono sempre lì non cambia niente sì però hai lo sconto diretto che pesa la fine vedi che però Francesco vedi che però vieni dalla via questa partita è importante ma non è fondamentale è importante perché è la prima contro la seconda no ma Gianni Gianni il problema è solo mentale a meno che non la perdi 4 a 0 allora allora se vince se vince l'Inter se vince l'Inter se vince l'Inter queste con l'Atalanta va più 7 ok ho capito che non è fatto a saperlo ragazzi da Juventus all'Atalanta ci sono altre partite di mezzo io sto dicendo se se vince con la Juve e vince con l'Atalanta se va più 7 no allora se vince più 7 su tanti punti no come no tra Juventus Inter e Juventus l'Inter ci sono altre partite di mezzo ah ok questa che la Juve sia a meno 10 o a meno 1 ok ok io credo che secondo me dobbiamo rimanere su questa attenzione ma che cosa si è mangiato Bandà la parata di Terracciano e poi Udent tiradosso al giocatore da Fiorentino la banda ce l'ha sugli occhi questo qua il Lecce il Lecce si sta divorando davvero gole è bandata solo davanti Terracciano io ti dico Paolo che secondo me noi dobbiamo valutare questa partita e allora possiamo discutere io dal mio punto di vista se vince la Juve vince l'Inter ti dà una carica mentale adrenalina da mille questo è sicuro ma non non pregiudica la vittoria finale o chi scappa allora se poi dopo andiamo diciamo ma se 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 va 7 punti avanti le 7 sono già diversi poi non è detto che vinci neanche con 7 perché mancano ancora secondo me troppe partite non è detto che vinci con l'Atalanta moralmente giochi in maniera diversa dopo le altre partite moralmente ad esempio dopo quando il 20 incontrerai calendario Inter esatto quando il 20 incontrerai l'Atletico Madrid mi sembra che ci siano due partite abbordabili per l'Inter no la prima la seconda mica tanto forse Salernitana e Lecceca però scusami non fa l'errore è questo che ti sto dicendo ecco ecco abbordabili cosa Inter Salernitana è lì l'Inter che farà il turnover se sei a più 7 come dici tu dalla Juve questo posso dirti lo possiamo fare noi che siamo seduti dietro una scrivania Salernitana sei ancora ultimo in classifica cosa vuoi hai già vinto 3 punti ragazzi io ti ho detto prima in pubblicità Juventus-Empoli come stava andando la Juve e come stava andando l'Empoli cosa avresti detto prima se io forse forse stiamo già negli spogliatori invece non è stato giacomo guarda che stiamo dicendo forse mi spiego male o forse stasera non riesco hai detto che è abbordabile sto dicendo con gli occhiai al mio sto dicendo con gli occhiai al mio che l'errore che non deve fare l'Inter attenzione se dovesse vincere anche la partita con la Juve andare più 4 aspettando sempre la partita con l'Atalanta potenziale più 7 incontrando quelle due squadre in casa Lecce e Salernitana dove c'è la partita di Champions League dell'Atletico Madrid è lì che non devi fare l'errore perché lì subentra che fa il turnover farà riposare perché abbiamo vinto con la Juve ma lo fa il turnover? o lo fa con l'Atletico Madrid? no lo fa lo fa lì il turnover lo dico io perché il generatore lo conosco torni indietro a prima dell'Atletico dopo Inter-Juve l'Inter va a Roma con la Roma a Gide Rossi la Juventus gioca in casa con Vinese ragazzi potrebbe essere che potrebbe essere che la settimana dopo si ribalta di nuovo tutto cioè allora prima di arrivare al 28 ci sono Roma per l'Inter e per l'Inter ci sono Roma Salernitana Atletico Lecce e poi c'è l'Atalanta Francesco scusami quello che ci ha insegnato sempre il calcio è che le tabelle non hanno mai funzionato quello ti sto dicendo con l'Ancerotti quando vedi anche la più semplice quella in casa con la Salernitana può esserci quella del passo falso perché la Juve ha perso con l'Alluvione però io credo che comunque domenica è una partita che può segnare una svolta eventualmente solo se vince l'Inter se no non è una svolta anzi la svolta è in positivo nel senso che state attaccate all'Inter e quando arriva la Coppa te lo dico adesso perché poi dopo se no uno dice lo dice adesso perché hai se la Juve vincesse domenica io non cambio il mio pensiero di una virgola la Juve non sta lottando cioè sta lottando per lo Scudetto secondo la critica è normale ma io sono adesso ci devi credere ci devi credere Francesco per il semplice motivo che non è detto sempre che la squadra più forte vinca lo hai visto Leicester in Inghilterra l'hai visto col Milan quell'anno due anni fa non metto limite alla providenza però se io dovessi iniziare a parlare di lotta Scudetto sul serio ne parlerò da marzo in poi avete visto qua Milenkovic ancora c'è un altro gol mangiato dal Lecce chi è che l'ha salvato? Terracciana ha parato attenzione gol della Fiorentina cosa succede? gol della Fiorentina se l'è perso pure il regista Belotti? credo Beltrano Belotti Belotti Beltrano o Belotti secondo me è Beltrano non si è visto perché stanno facendo un replay ma allora il regista se l'è perso quindi io credo che Falcone ne abbia fatta una grossa sì 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 deve essere stata una pappera del portiere perché proprio le immagini sono tornate a bomba su Beltrano vediamo allora Falcone sta per battere un invio dal fondo la passa a Baschirotto che la ridà a Falcone che la vuole ridare a Baschirotto mamma mia la dà a Beltrano ti ricorda qualcosa questo gol qua? incredibile ragazzi cosa ha combinato Falcone mi spiace davvero per lui no è una bella fan incredibile Beltrano segna Lecce 1 Fiorentina 2 papera clamorosa del portiere del Lecce non merita questo risultato Lecce che deve fare mia colpa perché se ne hai mangiati tanti tra l'altro poco fa stavi dicendo della parata ottima sull'azione precedente il secondo tiro lo salva dalla rete Milenkovic col piede sinistro uno che non gioca mai col signor italiano e che con l'Inter sta in panchina sì sì però poco fa su Bandana aveva fatto una veramente brutta sì sì la siete per è una brutta brutta allora Lecce sta per entrare in campo non si vede presumo piccoli solitamente dovrebbe essere comunque un giocatore come piccoli entra in campo entra piccoli probabilmente non al posto di Cristovic come al solito penso visto che Lecce è sotto vediamo se no è già entrato piccoli non al posto di Cristovic quindi entrambi entrambi in campo no al posto di Cristovic invece sì ci sta al posto di Cristovic è una beffa clamorosa perché le occasioni da gol i due pari tutte le occasioni che ha avuto Lecce è veramente il risultato non segna da settembre ragazzi ma è anche Cristovic ancora in campo ragazzi si hanno sbagliato in grafica Cristovic lo vedevo là in mezzo mi sono rincoglionito non so chi è uscito Cristovic è in campo è entrato anche piccoli la grafica adesso sistemerà quindi doppio attaccante per il Lecce una nota Gallo sta curando il Gallo c'è da dire questo bella ti piace questa? abbastanza Gallo contro Gallo Gallo contro Gallo chi è che ho interrotto per il gol di Beltran cosa stavano dicendo prima di questa intelligente cosa? non lo so io dopo questa battuta mi sono mi sono mi sono gelato il cervello dicevo che mi è venuto in mente il gol della Juventus con quel gol clamoroso con Szczesny che si fa nel passaggio cioè equivale alla roba di quel tipo lì con i gatti quella è di livello quella è di livello quella la gioca quella la gioca la 40 perché tu eri convinto che Szczesny fosse tornato in porto invece non guarda però dico come gravità di cosa bravo che poi l'imbaglia soprattutto Szczesny allora mettiamo l'Inter e l'UV a confronto io terrò io il calcolo vediamo quanti ne scegliete di uno e quanti dell'altro è un confronto che si può fare dici subito parlo quella è di 11 titolari della Rosa 11 titolari essendo lo stesso modulo si può fare se no solitamente questo gioco non ce lo possiamo permettere allora segno io Somero Szczesny vai cominciò io Szczesny Giacomo Szczesny Tom Szczesny Fra Szczesny facile cioè ci interessa il tuo parere no però Sommer a me piace molto sì vabbè tra i due portieri più forte è l'altro più forte non lo so sono uguali devi giocare a fine anno la finale di Champions League prendi Sommer a me pare il finale di Champions League gioco della torre dai gioco della torre nella partita più importante dell'anno chi prendi tra i due il gioco della torre comunque vabbè vinto Szczesny dai Pavar o Gatti Pavar Pavar tutti Pavar Pavar mettiamo Pavar Acerbi o Bremer possiamo andare via Bremer tutta la vita Fradice e Bremer 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 grande giocatore Bastoni Darmian o Cambiaso Cambiaso Darmian Cambiaso Darmian due pari qua è finita in partenza Barella Barella o McKennie Barella qui ci piace vincere facile Barella Barella tutti d'accordo no? c'è la Noglu scusa puoi passare dopo per favore vai direttamente a Mkhitaryan Mkhitaryan dalle Juventus prendo Rabiot prendi Rabiot come sta giocando adesso prendo Mkhitaryan anch'io come sta giocando oggi 2 a 1 allora io invece proprio per come allora il mio dubbio è che Mkhitaryan l'anno scorso per dire è passato spesse volte in sordina invece era quel giocatore che poi faceva delle giocate di qualità pazzesche tipo semifinale di Champions tipo partite di campionato determinanti è un giocatore che fa sempre la cosa giusta però il Rabiot di quest'anno mi sembra superiore a Mkhitaryan quindi scelgo Rabiot Rabiot quindi siamo pari anche qua qua puoi andare oltre anche qui Di Marco Kostic siamo tutti per Di Marco direi di sì proprio Di Marco L'Autaro Blavich qui adesso ci siamo perché vabbè io dico L'Autaro perché obiettivamente a L'Autaro non ci rinunceremo dobbiamo dire in questo momento perché non è che possiamo fare la carriera adesso L'Autaro la carriera cioè oggi in quest'anno nell'ultimo anno chi è più forte? L'Autaro 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 mettiamo L'Autaro però ecco lì in fondo tu non mi hai messo chiesa eh lo so qua io vado sul diciottenne mi spiace Turam è parito benissimo ma io dico Ildiz io dico Ildiz io Turam io prendo Turam sai perché 1 a 1 Ildiz perché si muove meglio dico Turam si muove meglio io dico Ildiz se ci fosse stato chiesa avrei detto chiesa quindi abbiamo 5 Inter tra Juventus e 2 pari e no siamo 10 c'è qualcosa che non va ah è perché aspetta il VAR l'hai messo beh possiamo scusa possiamo mettere anche Inzaghi Allegri beh vabbè Inzaghi Allegri dai ragazzi 6 Scudetti 5 supercopi italiane 4 compi 3 pari non 2 pari adesso bene tutto 5 Inter 2 Juventus e 3 pari ad oggi ad oggi Allegri inzaghi vogliamo farla? facciamo ad oggi Allegri fa miracoli inzaghi fa normalità però voglio dire tu dici 5-3 insomma vuol dire che comunque la Juve non è una rosa così non è una rosa così allora da questa graficchina l'abbiamo votata allora avete votato che la Juve difensivamente parlando parlo del pacchetto alletrato è più forte l'Inter a centrocampo molto più forte della Juve in attacco si compensano infatti questo era è questo è quello che è lo specchio che è la realtà scusa perché quando lo dicevo io mi dicevano oh ma sei matto sei fuori io io c'eri anche te 2-3 anni fa no 2-3 settimane fa sì sì sono qua sempre io ho sempre detto se levi il centrocampo infatti ti vedo sempre ma sei tu o è la Sago? no a volte c'è un gemelli no un avatar quando io ti dico che secondo me il centrocampo non c'è paragone ma se stanno bene tutti parlo perché è chiaro se stanno male a Chiesa stanno male a Vlaovic è finito il film allora se stanno bene tutti non dico che sono uguali però comunque la Juve davanti non ha tanto tanto meno rispetto all'indice davanti secondo me dietro dietro Bremere e Danilo però tu mi insegni che il centrocampo spesso e volentieri è il reparto più importante poi abbiamo parlato del portiere ti faccio un esempio ti faccio un esempio secondo me Allegri basa tutto su quello che hai appena detto tu grande solidità difensiva perché c'è giocatori per farlo e grande fluidità in attacco perché il centrocampo è quello che è la Juve davanti ha più cambi dell'Inter di livello nel senso che oltre a Vlaovic a Chiesa c'ha il Diz Milik e Ken che sono meglio di Arnavici e Sanchez Milik è tanta roba per me no però a metà campo hai ragione tu non c'è gara soprattutto sui esterni non c'è partita Marco Barelli e Cialanoglu oggi sono tra i tre migliori d'Europa insieme ad altri c'è anche Frattesi che potrebbe essere un titolare lì quindi voglio dire infatti io dicevo che non avrebbe mai giocato al posto di Mkhitary e infatti non gioca è quello che ha giocato al posto di Cialanoglu certo che adesso non mi viene il nome dai è quello che ha giocato al posto di Cialanoglu Aslani perché Aslani nella Juve non gioca ragazzi ma stiamo scherzando ottantesimo di gioco Lecce-Fiorentina 1-2 Lecce che sta provando disperatamente a prevenire al pareggio adesso c'è Piccoli che mette la palla in mezzo dalla sinistra Almquist non si aspettava che gli arrivasse la spizza e bassa a Parisi c'era però un fuorigioco quindi Fiorentina che regge Fiorentina quasi inaspettatamente in vantaggio dopo aver sofferto tanto con il Lecce che si è mangiato davvero tanti gol l'Inter sta prendendo Zenischi è una notizia che vi stiamo dando da mesi è ufficiale l'Inter non è ufficiale no nel senso ufficiale il fatto che il Napoli ad esempio l'abbia messo fuori dalla rosa un secondo arrivo arrivo no scusa ufficiale in quel senso lì no sta dicendo allora l'Inter ha comunicato al Napoli che andrà a trattare con il giocatore l'accordo a quel che ci risulta si farà il giocatore vuole andare all'Inter l'Inter vuole il giocatore e il Napoli ufficialmente l'ha escluso dalla lista Champions insieme a Demme e a Dendonker giocatore belga appena arrivato allora commentiamo un po' queste notizie Giacomo partiamo da questo acquisto non ufficiale ma ufficioso l'Inter che a zero va a prendere questo centrocampista polacco beh io credo che va ad aggiungere un tassello importantissimo a un centrocampo già forte perché questa è un'operazione di altissimo livello secondo me sono stati bravi ancora una volta Marotta Ausilio e tutto 29 anni perché comunque un giocatore così credo che a parametro zero vuol dire che nel tuo settore vuol dire che sei bravo sei bravo sei avanti un passo forse due rispetto ad altri perché comunque credo che è un giocatore che è ambito da parecchie squadre è un giocatore che comunque lui ha accettato subito adesso se non sbaglio diciamo due ore fa in macchina ho sentito la trasmissione sportiva dove diceva che ha avuto adesso un problema e fuori anche per un problema muscolare allora Napoli lo esclude dalla lista Champions quindi non giocherà con il Barcellona e poi viene fuori che il ragazzo ha un affaticamento muscolare quindi salta al Verona dà un po' l'idea che Zinischi se la sia presa è un po' diplomatico sì è più un ragazzo però detto papale papale Paolo secondo me l'Inter ha fatto un grande acquisto e anche a livello di operazione comunque perché il parametro zero ha fatto un altro grande acquisto pensa che a me piaceva già quando era Empoli ancora con Sarri te lo ricordi come no ragazzi giocatore che ha sempre fatto bene se pensi al centrocampo dell'Inter attuale con un innesto del genere che parliamo per il futuro perché magari Mkhitaryan non so adesso di preciso quanti anni posso avere però 36 credo che 36 addirittura dei centrocampisti è quello che è più grande però se controllo subito però dicevamo prima se il prossimo anno Mkhitaryan è un 89 ne ha fatti 35 a fine gennaio quindi quando avrai da fare un turnover non so in una Coppa Italia piuttosto che anche in campionato perché hai la Champions e metti dentro uno come Zielinski è una garanzia vediamo la formazione dell'Inter dell'anno prossimo con queste due piccole accortezze perché c'è anche il centroavanti da mettere dentro accortezze tra virgolette l'alternativa Zielinski e l'alternativa Taremi quindi Zielinski ha sempre giocato in carriera al centro-sinistra dove oggi c'è Mkhitaryan noi l'abbiamo messo tra parentesi ma può benissimo fare il titolare Taremi invece è una prima punta vera e propria noi ci rifiutiamo di mettere l'alternativa a Lautaro anche si può fare anche chiaramente il vice Lautaro ma lo mettiamo in alternativa a Turam può giocare con tutti e due il giocatore da 20 gol ragazzi può essere anche visto in ottica futura ovvero Taremi se vendono Lautaro dici? è la prima volta che sento il procuratore di Lautaro e Lautaro parlare in questo senso rispetto a un rinnovo di Lautaro lì c'è stata una bella frenata rispetto alle dichiarazioni che ha fatto Lautaro di ricordare quello che sto dicendo il contratto è fino al 2026 infatti da casa ci scrivono perché Lautaro non ha ancora rinnovato Goliere ho capito fino al 2026 c'è tempo scusate noi non dobbiamo perdonatemi noi non dobbiamo fare tutti quanti l'errore di considerare un giocatore sotto contratto perché quando arrivano a comprarti Lautaro è un giocatore da 120 milioni quindi se arrivano a 120 milioni che tu abbia il contratto fino al 28 al 29 devi fare due conti certo e quindi il contratto serve a tutelarti per carità in certi modi però ragazzi quando arriva l'offertone la porta via ha ragione anche lui cioè si stava parlando del nuovo contratto di Lautaro allora c'è anche tempo perché comunque è nel 2026 ma anche la porta ma quest'estate tu sei già di fronte a un muro però se c'è già qualcuno da due anni che spinge per portare in un posto a 10-12 milioni di euro lui continua a aspettare l'ingaggio che si alzi sì no ma possono anche darlo oggi l'altro vuole 10 milioni l'anno ragazzi perché o non hai Francesco o non hai problemi sotto l'aspetto economico e allora puoi fare quello che vuoi ma se hai dei problemi sotto l'aspetto economico è chiaro che no ma dico tra due anni o tra facciamo l'anno prossimo la società comunque ha la possibilità di intervenire cercare di andare a riparare un'eventuale vendita se invece tu ce l'hai subito adesso cioè diventa un problema certo però se prendo Tremi è evidente però nel momento in cui tu hai un giocatore di questo tipo ma Tremi scusami l'anno prossimo Arnautovic e Sanchez non ci saranno più no assolutamente no no però Sanchez sicuramente Arnautovic comunque è stato pagato 10 milioni di euro bisogna vedere un altro il procuratore ha parlato molto chiaro ha detto stiamo cercando di capire se è possibile rinnovare o no ad oggi non ci sono novità siamo dei professionisti se non ci sarà l'opportunità di farlo ognuno per la sua strada non hanno mai parlato così Lautoro è secondo me l'emblema dell'interismo oggi cioè quello che ogni tifoso vorrebbe vedere in un giocatore della propria squadra però devi fare i conti anche a livello economico Francesco per quello arrivo a questo giustamente ad oggi Lautoro è un giocatore che ha fatto finale di Champions ha avuto comunque uno squeletto con Conte è un giocatore è uno che può guadagnare 10 milioni in lettera ma già devi dirgli adesso secondo me perché questi qua che vanno a trattare questo a fine della stagione ma il concetto è Leao può prendere più soldi di Lautoro oggi? no allora Lautoro oggi va a bussare la porta e dice ragazzi voi 10 milioni di euro quindi o gli rinnovano il contratto adesso o rischiano che anche col contratto come dice Gianni lo si è visto con De Ligt ragazzi De Ligt prende la 12 milioni la Juventus la clausola a 150 quasi 120 la Juve l'ha venduta come? togliendo la clausola ha trattato con le Bayern ha venduto il giocatore a 80 più bonus lui ha preso il doppio di soldi è sempre il solito discorso è quello il punto se hai delle difficoltà economiche si presenta una società con una certa cifra tu la devi dare possiamo dire l'Inter straordinaria ma qualche difficoltà economica mi pare che l'Inter ce l'abbia ha anche scritto tutto maiuscolo non è l'unica che ha difficoltà economica ho capito ma il fatto che siano tutti che abbiano mal di pancia non è che uno sta bene stanno male tutti anche altri ma nessuno ha mai detto che l'Inter non ha problemi economici appunto ecco perché io dico però Gianni se parliamo della campagna acquisti e vendite comunque ragazzi ha preso a parametro zero ma io dico che sta facendo una roba a 50 milioni a tu che conosci bene Marotta scusami che ha lavorato anche alla Juve vendendone aumentina insospettabile vendette Vidal a 40 milioni al Bayern che in quell'epoca a 26 anni per me era una follia perché erano pochi soldi per quel centrocampista invece ha avuto ragione poi è venuto Pogba a 100 quella era un'altra cosa anche lì ha avuto ragione secondo te Marotta è uno che se gli arriva l'offerta per l'altro e gli offrono lo dice lui dal Barcellona che è una squadra che l'ha sempre voluto lo dà via lo tiene? lo dà via ma farebbe un errore e ci costruisce una squadra con quei soldi ovvio quindi prima blindi il contratto a 10 più forza di trattiva hai tu in generale comunque sì però dagliene anche 8 adesso come adesso hai la possibilità di mettere sul piatto 10 milioni? 8 arrivaci a 8 devi arrivarci io non lo so se possono arrivarci non lo so però dico sono delle cifre che in questo momento sono alte per lui no traversa traversa di Belotti in spaccata un bel gesto atletico del Gallo Belotti su assist di testa di Nico González Fiorentina vicina al gol e ancora adesso prende il palo esterno sembrava gol sì sembrava gol quello di Parisi colpo di testa di Parisi palla fuori ma guardate la giocata di Belotti che riesce con la punta del piede a prendere la palla viene fuori una strana palombella che quasi supera Falcone anzi supera Falcone ma trova la traversa Fiorentina vicina al 3-1 tre minuti più recupero per le speranze del Lecce che però mi pare un pochino in disarmo e anche psicologicamente parlando e ha preso una bella mazzata per chiudere non guardiamo i parametri della Juve con gli acquisti di Paratici fatti anni fa di cui ancora adesso noi stiamo piangendo ci addosso perché i sei e mezzo che prende Alessandro i dieci di Rabiot sono Rabiot magari è uno che può ganare sette otto in Serie A è uno dei più forti quindi ci sta però l'autor oggi veramente secondo me è il momento in cui l'Inter deve rendergli quello che lui sta dando all'Inter perché è il trascinatore è il più forte che c'è è un leader carismatico il capitano parla e poi parla con i fatti ed è continuo prima c'era il problema di l'autor che a volte aveva dei momenti in cui spariva un mese un mese e mezzo quest'anno è esploso definitivamente si è mai fermato è vero che rispetto a quest'anno non l'ha mai fatto così però a livello numerico poi alla fine i numeri ha sempre fatto tanti cose certo le prestazioni di quest'anno ma è continuo come mai quest'anno e fa sempre giocare bene gli altri se lui manda in doppia cifra Lukaku Dzeko Turan secondo me è un ottimo giocatore che noi conosciamo poco ma è cresciuto così in fretta perché l'autor posso dirti invece Francesco io ti dico che invece Lautaro ha tanto beneficio di uno come Turan perché gli crea spazi gli porta via giocatori però tutti gioca meglio di fianco lui come mai tutti gioca meglio allora in assoluto a finalizzare non ce n'è per nessuno però nel discorso di farti spazio portarti via gli uomini cercare di poi ragazzi se ti fa il gol di testa che ha fatto l'ultimo con la Fiorentina che è uscito tre metri dal palo avete visto se mancava l'autoro se mancava Turan quest'anno quali erano le differenze se mancava l'autoro Turan c'è la fatica io ti dico che uno come Turan l'autoro segnava lo stesso no segna però quest'anno con Turan ha ancora più possibilità perché Turan e di fatti Turan ragazzi ha 8-9 assist la Salerno ha fatto 4 gol in 20 minuti da solo sta parlando di giocatore che è fuori da ogni tipo di ragionamento sì però io ti sto dicendo uno come Turan che è arrivato quest'anno i gol di preciso non so se sono 7-8 ma ha fatto 8-9 assist no no ma gioca bene come Pulisic molto bene però è lui che prescinde dall'altro come tutti gli altri che giocano di fianco all'altro 8 secondo me 8 però ti dico ha fatto delle robe che io non avrei mai pensato per un giocatore gol a Careggio meritato gol del Lecce piccoli 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 ho detto lo sapevo che segnava piccoli al novantesimo minuto però lo scoccare del novantesimo entrati nel novantunesimo piccoli regala il pareggio meritato meritato a Lecce sicuramente anzi stretto anche il mio pareggio stretto ci può essere anche stretto sì 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 però però io avevo detto che i gol li hanno sbagliati loro sì sì però è vero Lecce ha fatto più della Fiorentina siamo assolutamente d'accordo vediamo se ci sono posizioni irregolari che sapete qua ci vuole poco assist involontario di Nzolà che stagione terrificante di Nzolà ragazzi che brutta roba e poi piccoli salta in cielo di testa sul canno Belotti e mette dentro le spalle di terra cerca proprio il palo lungo io ho visto l'allenamento davvero bravo l'allenamento da Fiorentina è uno schema questo è uno schema sì sì ragazzi che brutta roba sì ma dove è andato ste ragazzi in cielo è saltato ma sono contento per piccoli perché ricordiamo piccoli perché l'episodio di Lecce quel gol meraviglioso fatto in scadenza col Milan come adesso quindi ancora una volta lui è entrato da 20 minuti giocatori attorno all'arbitro attenzione allora c'è da capire se c'è un sospetto fuorigioco c'è un check in corso il sospetto è gol regolare saltare è saltato magari col politese saltando magari si è appoggiato Lecce 2 Fiorentina 2 in rete piccoli quando si mettrata un 95 minuto di gioco mi dite invece sulla scelta del Napoli di escludere Zienischi dalla Champions League no solo a noi ci danno i gol con i palli solo a noi ci danno i gol così voglio vedere attenzione di partenza Lecce ragazzi adesso Lecce ci crede attenzione attenzione cross dalla destra Christovic stoppa in aria il tiro paraterracciano ancora d'Orgu gol gol del Lecce guarda come difende l'italiano guarda come difende l'italiano continuiamo a parlare l'italiano in fase difensiva e anche Daversa sotto la Cuba dai ragazzi non puoi tenere la difesa così anche Daversa sotto la curva ad abbracciare Lecce che bello il tiro di Christovic la parata di Terracciano e poi d'Orgu Christovic il tira parata di Terracciano e poi d'Orgu di sinistro mette all'incrocio dei pali il tiro magari non felicissimo è talmente vicino che la palla dal novantesimo al novantaduesimo guardate la Fiorentina come difende qua in cinque contro tre sono che ripartenza qua bravo Christovic a stoppare il tiro la parata di Terracciano e poi d'Orgu trova l'incrocio sotto la travesta quasi disperato tre a due del Lecce incredibile ad uscire gran parata gli fa una gran parata ragazzi sul tiro cambiato tutto in pochi secondi gol meritato è giusto così il pareggio andava stretto al Lecce certo un errore gol meritato il cross all'alto di Christovic da parte di piccoli se mi vengono a parlare della difesa c'erano tre contro quattro come gioia mi commentate in due minuti la scelta scusate del Napoli di escludere Zerinsky della lista è un errore clamoroso quello Napoli offeso se vogliamo dalla scelta di più altre Zerinsky la testa altrove ti fai autogol per quale motivo tu hai un giocatore che è in scadenza perché Osimè non è alla testa altrove gli hai proposto il rinnovo perché gliel'hai stra-proposto e tu lo volevi fare perché l'ha detto chiaro e tondo il presidente che lui voleva che rimanesse Zerinsky però spinto dal suo manager le sue robe è chiaro che quando c'è un passaggio da un'altra squadra soprattutto a parametro zero io volevo decurtare lo stipendio no 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 non si era parlato di soldi perché lui non ha mai messo neanche in atto la trattativa non si è mai non ha mai iniziato però devo dire che obiettivamente sei sicuro? per quello che so io è così comunque credo che tutta questa ma la cosa importante è che tu hai un giocatore in rosa fino a giugno tu lo sfrutti al massimo perché se hai un professionista se hai uno che se ne frega Mazzari qualche giorno fa ha detto se io vedo Zerinsky Osimen con la testa non settatissima sul nabello in un'intervista l'ha detto De Laurentiis gli è scappato allora andrà lì ah come andrà lì Marotta ha fatto un po' il furbetto però io sono contrario a queste cose qua perché finché non finisce un campionato non bisogna fare dichiarazioni e non bisogna parlare con nessuno a fine campionato però era il segreto di Pulcinelli lo so però voglio dire perché Osimena ha la testa dall'altra parte anche lui ormai era in Inghilterra con la sua testa e cosa fai adesso non lo metti nella lista però sto dicendo non è giusto mettere Zizzagna durante un campionato scusa ma abbiamo appena finito di parlare di Lautaro sono professionisti adesso abbiamo appena finito di parlare di Lautaro scusami abbiamo appena finito di parlare di Lautaro quante ce ne sono di queste situazioni come quella di Zelisch come quella di Osimena guarda Evrai per me non è giusto secondo me dipende come gestisci la cosa perché se la gestisci in un certo modo è un discorso se la gestisci ti scontri sei mesi prima di finire il campionato poi la società l'allenatore perde il giocatore il giocatore magari perde le partite perché non giochi più fino a giugno è paradossale allora siccome sono professionisti sanno affrontare il periodo il problema si pone quando hai una sfida decisiva contro la squadra dove tu andrai come è successo anni fa tra Devrai e la Lazio e l'Inter quella di questo è una roba imbarazzante perché Devrai entra e fa pure il fallo del gol dell'Inter cioè quelle sono robe che non possono accadere lì ci deve essere una regola per la quale un giocatore in quel momento lì non è tranquillo non può giocare esatto perché ci sono confini di tessi troppo grossi cioè sei all'ultima e poi succedono robe come quelle ragazzi l'inforza di cui non parla nessuno adesso stai parlando di una situazione dove era l'ultima partita no era l'ultima partita e guarda a caso cosa succede cosa fa Devrai in quella partita e cosa fai vai a pensare vogliamo pensare che non fosse tranquillo cioè capisci che non era tranquillo allora io mi ricordo le dichiarazioni dell'allenatore sì sì devrai dire se io l'allenatore gli ha fatto la domanda e ha detto sei sicuro? certo io me la sento certo ma non era già di là ma anch'io da professionista ma me la sento vuol dire che era già di là no ma io l'avrei fatto uguale me la sento giocare per l'Inter sì ma guarda guarda che quando ma ragazzi però posso dirti una cosa arrivo anch'io i zaghi arrivo anch'io dopo di una situazione stiamo parlando di una situazione che non c'è tra niente con questa qua manca ancora tutto un girone di ritorno no ma soprattutto scusa al di là ma il girone di ritorno scusate ma glielo fai anche fare la cosa grave è che tu lo penalizzi in Europa quando questo non è che gioca contro l'Inter piuttosto che ma non è che lo penalizzi contro il Marcellona ma Gianni vedi è già sbagliato e tu rinunci a un giocatore io ho sentito già delle dichiarazioni dove diceva eh però lui sarà arrabbiato lui parlo di Zelisk perché non gli fa fare la Champions ma ragazzi non è ti fai un altro gol Gianni non è arrabbiato perché non fa la Champions è arrabbiato perché l'ha messo fuori rosa è arrabbiato perché non avrebbe mai più fatto giocare fino alla fine e quello è perché se tu non giochi più fino alla fine e t'alleni e basta non è bello per l'anno prossimo perché Rosimè non lo fa questo è perché con Rosimè è un altro discorso e poi glielo fai lo paghi sei mesi cioè questo giocatore Zeliskio lo paghi sei mesi per tenerlo in panca ma glielo ne frega niente così gli fai un bel dispetto non lo so magari giocherà ha ragione Giaccio non gliene frega niente non gliene frega niente nei sei mesi non gliene frega non gli interessa vediamo intanto è finita Lecce ragazzi partita davvero incredibile oh va anche a salutare il portiere quella che abbiamo raccontato tra Lecce e Pimentino allora cosa? lo vanno a consolare l'ordine dei gol l'ordine dei gol al diciassettesimo al diciassettesimo Lecce in vantaggio con Uden su calcio di punizione ragazzi per favore per favore per favore al cinquantesimo il pareggio di Mandragora per la Fiorentina poi il gol di Beltran per la Fiorentina con una papera clamorosa di Falcone pensiamo allora che la Fiorentina abbia vinto perché Lecce nel frattempo si è divorato i gol invece al novantesimo piccoli al novantaduesimo d'Orgu regalano la vittoria agli uomini d'Aversa vittoria l'abbiamo già detto tutti siamo in questo studio l'abbiamo ripetuto più volte la Fiorentina ha avuto due occasioni clamorose quasi praticamente per chiudere la partita sul 2-1 beh ha preso attraverso quella di Belotti eh beh non è una roba da poco no no però dico non è un gol sbagliato no no ho sbagliato per carità però occasione io parlavo di occasione entriamo con il Milan Gianni sei contento? ci vediamo la prossima vabbè addirittura sono molto arrabbiato se vinci questo weekend i Ud e Farenziano prendi punti su te due sono molto 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 arrabbiato con Frosinone guarda che te l'ha tirata Gianni senti cosa stai dicendo scusa c'è Inter-Juve un pareggio voi con Frosinone 3-0 minimo 3-0 capisci? 3-0 per chi? cioè 3-0 per chi? no ma lui lui da primo si preoccupa della terza no perché pensa della seconda guarda che lui ti fa Juve allora ben ritrovato rispondiamo un po' di vostre domande dai interagiamo un po' da casa ci scrivete precisiamo che erano gli squallor quelli della canzone erano gli squallor era il 38 luglio era scoppiata l'AFA va bene insomma zia Waller buonasera volevo chiedere al mitico Francesco Pili se per l'estate il nome di Samarzi c'è sempre in cima la lista della società oppure puntano tutto su Copminers grazie Massimo da Pisa no Massimo ti sei risposto da solo Samarzi adesso è una cosa che secondo me verrà fornita da altri club la Juve per ora punta su questo l'Atalanta però per adesso chiede 50 milioni quindi si tratterà credo a lungo magari con qualche contropartita interessante si fa il nome ogni tanto di Sule nella contropartita tecnica anche se ha molto mercato all'estero quindi potrebbe essere anche magari ceduto in Inghilterra io me lo terrei così giovane così bravo però insomma per questo tipo di giocatore la Juventus ha bisogno di qualità in mezzo al campo qualità pronta subito di un giocatore che sa giocare in Serie A fisico tecnico quindi questo è secondo me quello su cui si andrà adesso Samarzi per ora sospesa la cosa è pronto il grande salto per Copminers è pronto per una grande squadra per essere titolare indiscutibile di una grande squadra secondo me sì ci sta a me sembra uno molto determinato secondo me sì perché è migliorato tantissimo quest'anno dal mio punto di vista è migliorato tanto a parte i gol che ha fatto perché ha fatto tanti gol però è un giocatore che ha tutte le qualità giuste per poter fare sia centrocampista può essere bravo anche da trequartista è un giocatore che arriva da dietro perciò è sempre difficile per un difensore marcarlo quest'anno sta facendo tantissimi gol però è pronto non pronto di più per una grande squadra secondo me sono Claudio da Pescara zia Waller gli squalor anni 80 bravo 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 Claudio allora buonasera ci scrive Francesco da Catania domanda per Giacomo se l'Inter in estate vendesse Dunfries con chi lo sostituirebbe non videochiamate ma che videochiamate a fare ragazzi come vi mettiamo allora c'è Darmian c'è Buchanan basta no? no vabbè ma poi adesso se arriva anche Zelisky secondo me non dico che è un esterno non è un esterno però io credo che l'Inter in questo momento se dovesse andare via Dunfries e io sono convinto che va via io sono convinto che va via ma da quel lato secondo me l'Inter è coperta è coperta molto si ma vedi che anche nella formazione contro la Juve giocherà Darmian al 100% cioè il titolare del quinto del esterno di destra lui no ma anche perché gli dà più garanzie ma non avrebbero preso Buchanan non so ancora come si pronuncia come Mitch come Mitch Buchanan non è secondo me non ha dunque Darmian gli viene scherzando ragazzi a dicembre a dicembre non dietro fa 35 anni a 34 no è dell'89 Matteo però dico lì secondo me credo che in Zaghi è contentissimo di quello che ha Andrea Andrea da Bergamo ci scrive argutissimo Andrea complimenti se il Milan prendesse Mbappé secondo me sarebbe molto più forte sì è probabile Andrea anche Francesco sei d'accordo? sì il problema è che il Real Madrid secondo la Bild gli ha già fatto un contratto da 50 milioni euro l'anno mi sa che non se lo può permettere Andrea però ci scrivono cosa c'è di vero nelle voci che vorrebbero Leao al Pari l'anno prossimo al posto del partente Mbappé secondo voi il Pari potrebbe scegliere Leao per sostituire Mbappé? secondo me no perché non gli garantisce quel numero di gol che lo so per un altro Mbappé dove lo trovi? per me prende Osimè Osimè per me prenderà Osimè cioè non va in Inghilterra Osimè per me va al Paris Saint Germain Osimè ci schiedono Osimè dove andrà? come è in Inghilterra? Paris Saint Germain anche secondo me Paris Saint Germain per me va al Paris Saint Germain andando via Mbappé secondo me va in Inghilterra non so dove però va in Inghilterra o al Manchester il Chelsea che è sempre una squadra scusate Luca da voi Saint Germain perde Mbappé e non prende un giocatore autorevolmente importante come lui più o meno è chiaro che non trova un altro Mbappé però qualcosa di questo tipo insomma non credo che rimanga bocca asciutta per Thomas e Giacomo se Inzaghi non dovesse vincere il campionato sarebbe giusto esonerarlo? portarlo di nuovo alla Lazio a Spacoletta posso fare i complimenti a Thomas per questa roba? non per la Spicoletta però scusatemi un attimo ma se la squadra l'Inter è la squadra secondo me più forte è un parere mio ovviamente poi posso sbagliare l'Inter secondo me è quella con la rosa più forte da tre anni il Milan ha vinto uno scudetto due anni fa dimostrando di essere più squadra dell'Inter stessa l'anno scorso il Napoli ha fatto un fuorigiri quest'anno se Inzaghi perde lo scudetto a discapito di questa Juve se resta resta o perché vince la Champions o non sicuramente perché vince la Supercopola scusa Paolo non ho capito chi è come si chiama? Marco Marco da Furlì allora Marco Marco ascolta cosa hai detto te? per me va via allora io invece ti dico che rimane perché vince lo scudetto l'Inter ah certo ma la domanda di Marco la domanda di Marco è chiaro se non dovesse vincere fammela passare è arrivato ma arriva lui bello bello è arrivato Zandegu ma te non la vieni cambia le domande della gente chi è questo Gianni? Zandegu non conoscerete neanche Zandegu dai allora però Frank Zappa no Frank Zappa però posso dirti Paolo prego ma il discorso la domanda è fantastica ma è la tua risposta ancora di più però dato che dovevamo rispondere la mia risposta è ma non c'è problema perché intanto vince lo scudetto allora Giacomo ti dico il Milan non è una squadra scudetto perché mani sul banco il Milan non è una squadra scudetto però vorrei vedere Inter e Juve giocare due mesi senza i difensori centrali e l'ha fatto la Juve e beh l'Inter potrebbe fare lo stesso perché ha una riserva importante Bastoni Cervi Pogba Fagioli Chiesa Gianni perché non si parla più di Camarda? e perché il ragazzino lì lo hanno ecco lì un'altra accusa che fanno diciamo l'attuale dirigenza averlo veramente dato in pasto alla Serie A quando non ha non la tecnica non ha il fisico ancora secondo me per poter tenere e allora a 15 anni non si mette in Serie A un giocatore che fisicamente deve confrontarsi con altri giocatori se è fisicamente dotato va bene ma se non c'era fisicamente gli fai del male e questo è il motivo ti ricordi Pogba quando esordì a 16 anni e Tuffe Berlusconi con Conte aveva 16 anni all'epoca però ragazzi è stato messo in una situazione che il Milan non aveva gli attaccanti in quel momento bisogna dare atto anche a questa cosa qua è fondamentale ha avuto 31 infortuni di cui 22 muscolari appunto è chi doveva mettere l'ha messo dentro anche per questo però sei privato tu durante l'anno di due giovanissimi che mi hanno dato una bariera va bene però Colombo potevi portartelo a casa che era più pronto per fare la Serie A detto questo Camarda è là non è che è stato bruciato con la primavera si allena un ragazzo serio e tutto è un problema fisico che non può tenere la Serie A però ragazzi vi ricordate Scuffe quando esordì sparì per tre anni sembravano buffoni sparì per tre anni io non vorrei che Camarda facesse la stessa cioè guarda che poi tornare tornare dopo un hype del genere dove tu esordisci in casa col Milan a San Siro 15 anni con la tua famiglia fai anche una buona partita poi dopo sparisci io però sono contento che i riflettori si siano spenti meglio Giacomo no secondo me no secondo me no perché ti dico la verità non ha stoppato il suo processo di crescita quella partita no io allora lì poi dipende sempre dalla mentalità di ognuno di voi perché io ne ho visti parecchi io ne ho visti parecchi a me mi hanno fatto fare l'esordio non avevo 15 anni ma avevo 16 e mezzo però io quell'esordio so che me l'hanno fatto fare per darmi un premio poi sono ritornato nella Beretti allora posso fare mila esempi che ne ho visti perché sono stato grazie a Dio 40 anni lì perciò il settore giovanile avendo fatto anche l'allenatore ne ho visti tanti l'hai vissuto Quagliarella è andato a 18 forse neanche 18 anni prima squadra poi è ritornato in primavera allora io credo che dipende sempre dalla testa del giocatore io penso che il giocatore comunque sapeva questo ragazzo che sarebbe ritornato dove giocava prima cioè è andato lì come hai detto tu come abbiamo visto tutti perché a Milano aveva dei problemi infortunati sì però quel giorno si è caricato troppo l'aspettativa su quel ragazzo nella sua attesa cioè è entrato che sembrava che stesse entrando sai che quando quando tu entri quando tu entri a 15 anni a San Siro va la stessa cosa con la Juventus a Torino o l'Inter ragazzo di 15 anni che fa l'esordio c'hai tutti i riflettori sopra però l'importante io sono convinto che già la società Milano compreso Pioli gli ha parlato prima guarda che poi tu ritorni cioè non è che l'hanno fatto venire l'ha messo in ritiro poi l'ha messo in panchina per rispondere all'amico però voglio sono bravissimo semplicemente il ragazzo comunque era testa a posto e non si è montato la testa questo era il pericolo più grosso 15 anni e mezzo ciao Francesco sono Interissa speriamo che domenica sia una partita maschia ma leale saluti da Luigi da Napoli bravo Luigi condivido bello